Fratelli e sorelle, il Natale è prima di tutto una festa cristiana ed è per questa ragione che riflettendo sul Natale vogliamo cogliere la bellezza di questo incontro tra l'umano e il divino. Il Natale non può essere confuso con una serie di iniziative folcloristiche, forse anche identitarie, che seppur allietano le nostre fraternità e i nostri incontri, il Natale rinvia piuttosto a questo grande percorso di umanismo che Dio fatto uomo propone a ciascuno di noi. Festeggiando il Natale vogliamo riappropriarci di quella grande vocazione umana che fa di ciascuno di noi il prossimo dell'altro fratello. Ecco perché nel Natale i sentimenti di gioia, di pace, di riconciliazione diventano anche l'attesa, l'augurio e la speranza affinché possiamo vivere tra noi con quella gioia che ci trasfigura per aver incontrato Gesù bambino nato a Bettalemme. Di fronte al presepe le nostre famiglie possano gustare la bellezza di questo auspicio, di questo augurio e di questo incontro. Buon Natale a tutti!